Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Abbiamo dovuto chiudere la live a un certo punto perché se no non ne uscivamo più e quindi abbiamo deciso di farlo tornare, approfittando insomma del fatto che fa parte anche lui della stessa iniziativa che ci ha portati qui a Roma. Ciao Francesco, bentornato. Buonasera a voi. Luca, è un piacere di vedervi. Allora, la volta scorsa avevamo parlato di radioprotezione e di radiomedicina. Oggi invece ci concentriamo su qualcosa di diverso, ovvero di cui abbiamo parlato stamattina, se qualcuno di voi ha seguito la live, nella parte finale il professor Derrico ha introdotto un tema importante, ovvero quello della comunicazione in ambito nucleare e soprattutto degli errori storici che sono stati fatti in questo ambito. E siccome è un argomento che io trovo estremamente interessante e che stamattina è stato trattato nella parte finale della lezione e, come dire, senza poterlo approfondire, io vorrei ripartire proprio da lì, chiedendo a Francesco di raccontarci un po' quali sono stati gli errori più grandi della comunicazione in ambito nucleare e chi li ha commessi, su chi dobbiamo puntare il dito, ammesso che abbia un senso farlo. Adesso non c'è neanche tutta la fretta che aveva stamattina, professore, quindi può andare... A questo punto, visto che Luca ed io abbiamo deciso di darci del tuo, cosa che per me è assai gradita, vorrei che lo facessimo tutti. A me non piacciono queste disparità di trattamento, quindi è chiaro che la mia età è completamente diversa, forse le due vostre sommate ci arrivano alla mia, ma rimane il fatto che vi considero colleghi, apprezzo tantissimo quello che state facendo e, fra l'altro, sono pieno di invidia per la capacità di essere pieni di energia come siete dopo tutte quelle ore di live che avete fatto. Detto questo, sì, è vero, sono stati fatti errori nella comunicazione, ora, puntare il dito è relativamente facile, nel senso che sono gli interessi corporativi, alla fine, che hanno dettato la comunicazione all'inizio degli eventi che più a noi nel mondo occidentale sono vicini, ovvero quello di Three Mile Island e più recentemente quello di Fukushima, però c'è una differenza sostanziale tra le due situazioni. A Three Mile Island il mondo era completamente diverso, l'idea che fosse necessario comunicare con il pubblico, l'idea che il pubblico potesse avere anche delle paure che erano state stimolate da, se vogliamo, un qualche primo caso di cattiva informazione, e mi sto riferendo a quel film, La sindrome cinese, che era uscito da poco prima dell'incidente, letteralmente 12 giorni prima, credo, questo aveva creato dei presupposti per una paura esagerata nei confronti del nucleare. Perché era un film nel quale si fondeva il nocciolo di un reattore? No, 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 attenzione, non si fondeva, c'era il rischio che si fondesse perché ovviamente c'erano questi capitalisti corrotti che gestivano la centrale, ma poi alla fine il giornalista eroico riusciva a sventare tutto. Esattamente, esattamente, come avete sottolineato prima, giornalisti che sono il fulcro di tutto, nel bene e nel male. Allora, sì, era un rischio, fra l'altro di rischio avete parlato stamani in un modo che mi è piaciuto molto, Luca, tu parlavi di contrapporre i rischi percepiti o reali e quantificabili comunque della nucleare, a quelli che possono essere i rischi del fare alcune rinunce, cosa che io ho cercato di mettere nel contesto medico che mi è particolarmente familiare, dove l'idea di non accettare un rischio, sto divagando ma poi torno al punto, dove l'idea di non accettare un rischio o avere un timore eccessivo nei confronti della procedura ci può esporre al rischio reale che non venga fatta la diagnosi corretta. Stavo tornando al discorso di Stream Island, inizialmente ci fu un'enorme confusione, ci fu un'enorme confusione e un tentativo da parte delle varie autorità e delle corporazioni, dei gestori della Edison che gestiva questo impianto, di rassicurare in maniera priva, diciamo, di fatti ancora la popolazione. E poi però ovviamente succede che arrivano voci differenti, succede che un elicottero solvora l'impianto, fa una misura anomala, il dato viene rivelato, viene male interpretato, sembrava che fosse un livello di dose pazzesco, un rilascio di iodio pazzesco, a quel punto la popolazione si terrorizza. Interviene l'Environmental Health Agency locale, che anzi il Dipartimento di Salute Pubblica, chiedo scusa, il DPH in questo caso, e dice, beh questa è una cosa che dobbiamo verificare. E quindi già il messaggio cambia, ma questo purtroppo non avviene subito. Il messaggio cambia alcuni giorni dopo l'inizio dell'incidente, la cui evoluzione, immagino non sia questo il momento di trattare, e il fatto è che quindi il messaggio diventa uno del tipo, la vostra salute ci preoccupa, e quindi faremo le verifiche del caso. In altre parole andremo a effettuare dei campionamenti, vedremo se c'è stato davvero un rilascio di iodio, una ricaduta di iodio sul terreno e quindi in quello che poi diventa il foraggio delle mucche, zona di allevamenti, zona di produzione di latticini, quella è rurale, e quindi è chiaro che il pubblico inizia a sentirsi rassicurato, qualcuno si preoccupa di loro. Le misure vanno avanti, le prime indicazioni sono rassicuranti, le misure vengono ripetute, e a questo punto il messaggio forte e chiaro è no, non c'è pericolo, non c'è stato questo rilascio. L'analisi continua e vengono fuori i dati citati da voi, in parte anche da me stamani, ossia che le dosi, le esposizioni furono bassissime. Alla fine il valore medio dell'ordine è di 0,09 millisievert, valore più alto registrato, un millisievert, si parla ai dosi efficaci, qui corrispondono rischi di effetti stocastici, questi che possono verificarsi oppure no del tutto. Un attack ci dà una dose più alta. Molto, non c'è dubbio, fra l'altro di quelle fatte spesso in modo un po' garibaldino, si parla di 10 volte più alte, quelle fatte bene danno un 5-6 millisievert, ma sicuramente sono più alte quelle dosi, non c'è il minimo dubbio. E sono comunque, anche quelle dell'attacca che è più alta, dosi sulle quali noi non siamo capaci di stimare il rischio, perché sono talmente bassi questi valori, che ci sono tantissimi cosiddetti elementi o fattori di confusione che ci impediscono di attribuire a quella procedura un vero e proprio rischio quantificato accuratamente. Tanto che usiamo questo famoso modello lineare senza soglia, e già ne parlammo, soltanto a scopi cautelativi e normativi. Questo serve per stabilire una specie di cornice di riferimento, un quadro di riferimento, che ci consenta di operare. E si basa su una sovrastima dei rischi noti, per la quale arriviamo a fare tutta una serie di ipotesi, la prima delle quali è che un qualsiasi livello di dose superiore a zero possa causare quella transizione a livello di elettroni che poi vanno quindi a portare all'ionizzazione di una molecola, di un atomo, del DNA, che in un caso sfortunatissimo potrebbe diventare l'origine di tutta la sequela, formazione di un tumore, cose che ovviamente hanno una probabilità irrisoria. Allora, tornando al discorso della comunicazione, è chiaro cosa successe a Three Mile Island. Sembrava che la lezione fosse davvero chiara, fosse implementabile, perlomeno dal mondo occidentale, e poi c'è stata Fukushima, e Fukushima ci ha rivelato un quadro diverso. Ti interrompo un attimo per una domanda, perché, come dire, a un certo punto a Three Mile Island il pubblico si è sentito rassicurato, è intervenuta l'Environmental Protection Agency, e in qualche modo l'allarme è rientrato. Cioè, nonostante però, Three Mile Island ha avuto un effetto, come spiegavi stamattina, molto importante, sulla percezione pubblica dell'energia nucleare. Quindi questo intervento è stato troppo poco troppo tardi, o ci sono intervenuti altri fattori? Io credo che l'intervento abbia avuto una valenza prevalentemente locale. Cioè, a livello locale, l'Agenzia e il Dipartimento della Sanità pubblica locale ha appunto trovato il modo di rassicurare il pubblico localmente che le misure necessarie venivano condotte e che quindi i loro interessi localmente appunto erano tutelati. Ma la risonanza pubblica dell'incidente, l'idea che questi reattori, fra l'altro nuovissimi, avessero avuto un incidente immediatamente, poco dopo, diciamo, l'inizio dell'esercizio, turbò profondamente l'opinione pubblica. E questo di fatto si è paralizzato lo sviluppo del nucleare negli Stati Uniti. Tuttora questo fantasma di Three Mile Island è presente. Quindi è ben diversa appunto la percezione ai due livelli, direi, quello locale e quello nazionale e anche globale. Trovo molto curiosa questa cosa. Qualche giorno fa, lunedì, ero vicino a Vicenza, a ospite di Safas, che è un'azienda italiana che produce, tra le altre cose, componentistica per reattori nucleari, ma anche per centrali idroelettriche o altri tipi di... è una fonderia. E mi hanno chiesto cosa ne pensavo di Three Mile Island e io ho detto che se in una fonderia si rompe un forno ad arco, ovviamente è una spesa molto importante per, diciamo, chi possiede l'impianto, ma se non si fa male nessuno, la notizia non finisce neanche in cronaca locale. Se si rompe qualcosa in una centrale nucleare, come è successo a Three Mile Island, dove per carità si è rotto qualcosa di importante perché si è fuso il nocciolo del reattore, però non si è fatto male nessuno, è un incidente industriale e 43 anni dopo ci fanno le fiction su Netflix. Trovo incredibile questa cosa perché è un evento che se succede in un qualunque tipo di impianto che non sia nucleare, non finisce, se non ci sono vittime, non finisce neanche sui giornali. Quello che dice è verissimo. Questo fa parte della psicologia della reazione a quello che è nucleare, a quello che è radiologico, a questa entità, diciamo, impercettibile, è proprio totalmente impercettibile per noi la presenza di radiazioni, questo ci terrorizza. Ci terrorizza, viene ovviamente sbandierato da chi ha interessi di altro tipo. Nell'intervista che avete fatto prima, la Marchetta è sbagliata, avete evidenziato benissimo come dietro alle varie campagne fosse sempre possibile trovare qualche gruppo che promuove gli interessi delle grandi aziende petrolifere, i grandi gruppi petroliferi o chi fa uso comunque di combustibile fossile. Quindi è chiaro che c'è dietro questo interesse ed è chiaro che se l'informazione è utilizzata male da chi al contrario dovrebbe illustrare i fatti, perché qui si tratta di non fare propaganda, ma di illustrare i fatti relativi al nucleare, se questo non viene fatto correttamente perdiamo immediatamente il confronto. E purtroppo lo perdiamo perché non si vede nell'ambito, a mio giudizio, non si vede nell'ambito nucleare, la presenza di comunicatori capaci di fare il loro lavoro, cui è data la possibilità di presentare i fatti in maniera orientata al pubblico. Quindi vediamo questi scienziati, questi tecnici si presentano, veniamo in posti di fronte a tavole, a formule, questo ci dovrebbe rassicurare, ma ha l'effetto opposto, ha l'effetto di una cortina di fumo, così è percepito, dietro la quale si nasconde una realtà che non si vuole rivelare. Questo è uno dei grossi limiti, a mio giudizio, della comunicazione nel nucleare. E questo purtroppo è successo, si è ripetuto a Fukushima. E per noi questo è stato un colpo di grazia, perché tutti attribuiamo, attribuivamo perlomeno, al mondo giapponese, quest'aura di perfezione tecnologica, quindi tutto quello che è giapponese, per noi sembrava dovesse essere il non plus ultra della tecnologia, incluso il nucleare. E pochi sono andati poi a studiare, voi l'avete fatto, di parlare di questo, il fatto che i reattori fossero davvero di vecchia concezione, il fatto che si fossero anche trascurate alcune cose note, che una parete di 10 metri potesse essere, ad esempio sufficiente per bloccare gli tsunami di cui si sapeva che erano esistiti casi peggiori, e anche questo è grave, la tradizione giapponese riporta questi fatti, i tsunami di altezza maggiore si sa che avevano avuto luogo, e allora questa prima barriera non era adeguata. Evento rarissimo, non c'è dubbio, ma è su questa base che si progettano i reattori nucleari, sia da un punto di vista... Anche le batterie, i generatori diesel, cioè i generatori diesel... E poi arrivare, esattamente Fulvio, e poi arrivare quello. L'evento iniziatore comunque, intendevo dire, già era uno di quelli che doveva essere considerato diversamente, una parete di 20 metri o di 15 per la verità, o di 14 londas se non sbaglio, sarebbe stata sufficiente a contenerlo. E poi arrivano tutti gli altri errori a catena, certo, il fatto che i diesel fossero in un locale semi-interrato, e quindi è chiaro. Però nonostante il numero di morti causati dalle radiazioni, risulta essere a zero degli ultimi comunicati. Salvo quello che il governo giapponese... Sì, ha avuto un risarcimento da parte del governo, ma l'anshare specifica che il fatto che sia stato risarcito non è una prova scientifica del fatto, anche perché si tratta di un tumore ai polmoni. È verissimo, è verissimo. Diciamo che quello che il governo ha fatto in quella circostanza è che siccome non si può escludere un nesso causale per quelle che sono le linee guida dei risarcimenti governativi in queste specifiche circostanze, ti diamo il risarcimento. Ma non si può escludere a, è successo questo, c'è un grosso abisso che bisogna tenere presente quando si comunica. Aggiungo una cosa. Abbiamo parlato di errori nella progettazione della centrale di Fukushima, c'è da dire che con il senno di poi è molto facile chiamarli errori. Esiste una sentenza della Corte Suprema giapponese che assolve in buona parte i dirigenti di TEPCO dall'accusa di negligenza criminale, sostenendo che le misure di sicurezza della centrale di Fukushima erano in linea con quelle che erano i regolamenti preposti dal governo e dall'ente regolatore. Quindi che al massimo spettava al governo dire che le barriere dovevano essere più alte. La centrale di Fukushima era compliant con quelle che erano le regolazioni di sicurezza dell'epoca. Ovviamente questo non significa che non fosse un errore. E' un errore, diciamo, da cui... Diciamo che non c'era dolo. Esatto, non c'era dolo. Ecco, qua questo volevo arrivare. Era un errore fatto in buona fede. Questo tipo di eventi, comunque, è vero che c'erano stati tsunami più alti, ma non c'era mai stato un terremoto così forte in Giappone. La concomitanza degli eventi, non c'è dubbio, che purtroppo è difficile anche da stimare. Giustamente stamani parlavate, parlavi tu in particolare, della difficoltà di stimare probabilità di certi eventi così estremamente rari. E' tutto verissimo questo. Quello che magari io trovo più grave è il pieno stile giapponese. I giapponesi hanno poi fatto questo gesto di assunzione, di colpa, è il fatto che non fosse stato minimamente preso in considerazione dal paese Giappone l'ipotesi di un incidente nucleare. La filosofia che era in vigore a quel tempo era quella di prospettare o presentare il nucleare come assolutamente sicuro. Ora, la sicurezza assoluta non esiste in alcuna attività, in alcun settore. Non esiste. Non esistono tecnologie totalmente sicure. E quindi questo, se vogliamo, è un errore a mio giudizio. Il popolo giapponese è preparatissimo, lo dicevo stamani, per fronteggiare miriadi di evenienze, di emergenze, di disastri. Si addestrano, cosa che tra l'altro sarebbe bene che facessimo noi. Un paese che realmente vuole mostrare preparazione deve addestrare la propria popolazione a fronteggiare queste possibili evenienze. La gente deve sapere cosa dovrebbe avere in casa, come minimo, dove andare. Queste cose noi non le sappiamo. E dovrebbe addestrare, di vago, perdonatemi, per esempio il personale ospedaliero. Perché cosa succede nell'eventualità di un incidente nucleare? Che la gente va verso gli ospedali e gli ospedali non sono preparati. Ed è grave perché ci sono le competenze. Le persone che sono preposte a fornire servizi di medicina nucleare sono tipicamente capacissimi di fronteggiare come competenze quella che è un'emergenza. Ma se non viene detto loro cosa è rilevante, cosa fare, è chiaro che poi si trovano... Ci raccontavo oggi degli incidenti di Goiana, insomma si pronuncia Goiana. Sì, Goiani. Goiani è la città. Tutti sono riversati in ospedale. Sì, sì, 112.000 numero che mi è rimasto impresso. Quello che è successo in quel caso è che una sorgente da teleterapia, quella che in Italia ormai praticamente non si fa più ma in altri paesi è ancora praticata, cioè l'uso di sorgenti radioattive di altissima attività, in quel caso una sorgente di cesio. Noi non la usiamo più perché l'energia dei gamma emessi nel decadimento del cesio ha un'energia un po' troppo bassa per dar luogo a un trattamento davvero efficace, ossia danno troppa dose sulla superficie, alla pelle, agli strati superficiali del paziente. Quindi usiamo fasci di maggiore energia prodotti da acceleratori e questo aiuta perché l'acceleratore lo possiamo accendere e spegnere quando vogliamo. Una sorgente radioattiva ovviamente non si può accendere e spegnere quando vogliamo. E allora sta dentro un contenitore, schermata, però decade. e quindi dopo un po', per quanto lunga possa essere la vita utile, dopo un po' va sostituita. E la fu sbrigativamente gettata a questo ferro vecchio. Mi permetto di correggerlo. In quella circostanza la sorgente non fu gettata via. La clinica di radioterapia si spostò dal cambio sede e la società San Vincenzo di Paoli che nacque una disputa legale tra la società, l'Istituto Goiano di Radioterapia e la società San Vincenzo de Paoli che possedeva l'edificio, i muri. E quindi, per via di questa controversia giudiziaria, furono messi sigilli al palazzo e si impedì all'Istituto Goiano di Radioterapia di portare via tutta una serie di equipaggiamenti. Con il risultato che arrivarono. Con il risultato che a un certo punto uscì in Brasile il film Erbi, il Maggiolino, tutto matto sbarca in Messico. Non sto scherzando. In occasione di questa uscita di questo film la guardia giurata del palazzo si diede malata al lavoro per portare i figli al cinema. Due ladri entrarono e rubarono tutto quello che potevano inclusa la macchina per la radioterapia che aveva ancora la radiosorgente dentro che non era esaurita. Era ancora bella carica. Mi sono dato una zappata sui piedi clamorosa perché ho usato informazioni di fonte che avrei dovuto verificare perché realmente quello che io sapevo è che era stata gettata o lasciata in un paio di vecchi e quindi non era corretto. Fu i due che rubarono svuotarono questa clinica portandosi via con una carriola tutto quello che potevano erano due spazzini che arrotondavano appunto rubando e la vendettero come rottame la vendettero come rottame e dopo averla aperta e il quello che la insomma il rigattiere che la comprò restò affascinato da questa bellissima luce blu decise che doveva assolutamente farci un anello per sua moglie c'erano 51 tera becquerel di radioattività di cesio 137 lì dentro ho fatto il calco su più o meno 250.000 dosi letali allora quindi c'era un rottamaio di mezzo soltanto l'ho citato al momento sbagliato o ne sapevo erroneamente quella che era il ruolo il punto è che ci furono esposizioni molto elevate senza dubbio quattro persone morirono questa polverina come dicevi tu stamani scintillante questa luce che veniva fuori è chiaro che li affascinava il punto è che furono 250 quelli che ricevettero un po' di esposizione quattro sicuramente dosi letali ma 112.000 che si riversarono sugli ospedali ospedali totalmente incapaci di gestire questi numeri persone che aspettavano ore e ore in coda per poter essere esaminate e che presi dal panico avevano nausea vomitavano e questo è esattamente uno dei sintomi classici dell'esposizione acuta a radiazioni quindi questo è un fattore che confonde moltissimo e poi tutte le conseguenze che ci sono state sempre legate alla mancata informazione questa città di Goiania che fu isolata totalmente vero sì che del terreno contaminato fu trovato uno sforzo di decontaminazione e rimozione del terreno fu fatto a costi altissimi peraltro ma certo non era giustificato il trattamento che ricevettero gli abitanti la città è stata davvero lasciata fuori dal mondo brasiliano per anni e anni non solo ci fu anche una scena terribile quella una delle vittime era la figlia del fratello del di questo rottamatore che ingerì alcuni alcune granelli di questa polverina quindi si prese una dose spaventosa e ovviamente morì e durante il funerale fu interrotto da una protesta cioè ci furono proteste ma violente contro il funerale perché avevano paura che il cadavere di questa bambina di sei anni potesse contaminare il quartiere e quindi tentarono di impedire il funerale di questa bambina poverina una scena abbastanza tragica perfettamente qual è ah ok l'abbiamo persa ah perfetto credo si fosse bloccata no no allora ci sono di nuovo e quindi di nuovo il punto è quello della paura che scatena tutto ciò che è radiologico nucleare il che fra l'altro lo rende un mezzo quasi ideale per condurre azioni terroristiche per chi volesse far questo avete avuto ospite Andrea Malizia che ospitava fra l'altro il webinar l'evento di stamani e lui vi ha parlato dei vari tipi di ordigni che temiamo che potrebbero essere utilizzati e questi sono in gran parte basati sulla reazione psicologica a quello che è nucleare è vero sì che ci potrebbe essere un ordigno nucleare vero e proprio vero è sì che potrebbe esserci un ordigno che consiste in una sorgente che è piazzata da qualche parte e irraggia silenziosamente e quindi in questo caso sarebbero proprio danni da realizzare il luogo ma quello che più fa paura anche perché potrebbe essere più facile realizzare è la cosiddetta bomba sporca quindi questo oggetto in cui un ordigno convenzionale unito a un qualche materiale relativo rilascia il materiale in una certa zona le conseguenze non sarebbero a livello di danni alla salute delle persone sarebbero a livello psicologico sarebbero il terrore scatenato la zona che viene totalmente persa come possibilità di utilizzo per chissà quanto e questo è uno dei motivi per cui negli Stati Uniti una delle cose più temute è che una bomba sporca può essere fatta detonare la zona di Wall Street per esempio se paralizzasse il centro nevralgico della finanza mondiale prendetevi conto di quello che sarebbe la conseguenza timori simili fra l'altro si scatenarono dopo che furono abbattute le torri gemelle si temeva che la quantità di amianto asbesto rilasciato potesse rendere inaccessibile quella zona per chissà quanto ci fu un crollo del valore del mercato immobiliare in quella zona poi la decontaminazione ha avuto luogo speditamente efficacemente e tutto ha recuperato valore rapidamente ma la paura è quella è la stessa che quindi una certa zona venga preclusa all'utilizzo proprio dalle conseguenze psicologiche io a questo punto vi devo salutare Fulvio ci deve salutare perché deve prendere un treno ma noi continuiamo ancora per mezz'oretta tra mezz'ora ho un treno notturno che in sette ore mi porta a Venezia alle cinque e mezza arriverò lì dove fai cosa di bello te lo chiedo perché ogni volta sono cose ma vado a fare un torneo di beach volley quindi io me la godo e lascio qui Luca a lavorare quindi ora vi saluto tutti ti ringrazio Francesco buon viaggio buon proseguimento e io invece continuo con una domanda perché abbiamo parlato di quello che potrebbe succedere in caso di una bomba sporca ma potrebbe non esserci bisogno di una bomba sporca in effetti quello che abbiamo visto con la guerra in Ucraina non è che non serve che ci sia davvero un rischio radiologico basta che ci sia la notizia di un rischio radiologico e le persone in paesi come l'Italia e il Belgio si fiondano si ammassano nelle farmacie chiedendo pastiglie di odio per qualcosa che non è successo e che se succedesse non arriverebbe fino in Italia neanche meno in Belgio in Ucraina ovviamente con potenziali rischi enormi per la loro salute abbiamo avuto ospite la dottoressa Gerry Thomas che si è messa le mani nei capelli quando ha sentito sta notizia dicendo che lo ioduro di potassio preso come dire in maniera incontrollata senza l'adeguata prescrizione medica è pericolosissimo uno rischia di fregarsi la tiroide da solo e non c'è neanche bisogno della bomba sporca basta dica di averla messa è verissimo i cosiddetti hoax quindi le false notizie è verissimo e è proprio questo il problema relativo all'abuso del nucleare e alla mancata conoscenza di quello che significa materiale nucleare materiale radioattivo ed è dove noi dobbiamo fare uno sforzo molto maggiore di educazione di informazione di coinvolgimento dicevo prima di chi queste cose le conosce e che fra l'altro sarebbe poi preposto aiutare nel caso di una reale emergenza in primo luogo quindi gli ospedali i dipartimenti di medicina nucleare a mio giudizio questo è lo sforzo che si fa negli Stati Uniti dove attenzione però non è che la situazione sia perfetta sono state fatte delle prove delle esercitazioni dove si è simulato un evento con coinvolgimento di dipartimenti di pronto soccorso dipartimenti presso la medicina nucleare ed è successo che personale chiamato per questa presunta emergenza in realtà era una esercitazione abbia rifiutato di presentarsi e c'è tutta un'analisi molto interessante in cui mi sono imbattuto e cerco un attimo i dati di questa analisi perché le conseguenze di questo esercizio hanno rivelato che mancavano i protocolli mancavano i rivelatori mancavano le capacità di condurre triage quindi questa analisi questo screening iniziale dei pazienti e non c'era un adeguato contenuto in termini di educazione del personale stesso presso gli ospedali quindi tutta una serie di osservazioni sono state fatte e di queste dovremmo far tesoro tra l'altro queste contribuirebbero a creare quella che con termini che anche in italiano adesso utilizziamo è la resilienza della comunità la resilienza di un paese cioè la capacità di rispondere e questo coinvolge tanti livelli della nostra società e questo non sta succedendo per la verità in Italia è una mancanza che io trovo grave sì in Italia bisogna dire che non succede solo con le emergenze radiologiche noi abbiamo un paese piuttosto sismico e non ho mai visto un'esercitazione antisismica ho visto solo le esercitazioni antincendio a scuola bravo ti interrompo perdona io cerco di non farlo ma qui ti devo interrompere per dirti quanto sono d'accordo io insegno presso un'università periodicamente vengono fatti partire gli allarmi antincendio e mi deprime vedere la mancanza di serietà di considerazione con cui vengono presi a volte dagli studenti anche perché in Italia abbiamo un certo quantitativo di patrimonio immobiliare abusivo che in caso di terremoto crolla come un castello di carta quindi sarebbe opportuno che le persone sapessero cosa fare perché ogni volta che avviene un terremoto in Italia crolla tutto non crolla tutto perché il terremoto è una tragedia incredibile imprevista eccetera eccetera crolla tutto perché in Italia ci sono regioni dove l'80% del patrimonio immobiliare è abusivo e abusivo vuol dire che non è costruito con criteri antisismici adeguati e quindi quando c'è un terremoto crolla tutto perché i terremoti che arrivano in Italia in Giappone non farebbero ma neanche mattone neanche una tegola cade in Giappone sarebbe un terremoto di quelli italiani ci vuole veramente la magnitudo 9 e la PGA 0.7 per far crollare hai perfettamente ragione io mi sono trovato una volta nella città di Mito dove prima di Fukushima andavo ogni anno invitato a partecipare a un evento dove si tratta di monitoraggio delle radiazioni e in questa città una volta in cui ero presente ci fu un terremoto se non ricordo male 5.6 nella scala Richter quindi una bella legnata io ero all'undicesimo piano di un albergo modernissimo e questo fece una sbandata laterale che secondo me fu almeno di mezzo metro io realmente me la feci sotto poi guardai dalla finestra e vedi che la gente continuava a fare tutto normalmente e mi resi conto che quello rientrava nei terremoti che per loro sono all'ordine del giorno e per i quali le loro strutture e i loro in questo caso alberchi sono progettati hai perfettamente ragione quindi ci sarebbe bisogno di una consapevolezza maggiore in Italia tra l'altro parlando delle radiazioni è curioso perché io per scrivere il libro ho fatto un po' di approfondimenti storici e non è sempre stato così cioè le radiazioni per un lungo periodo di tempo anche dopo che si è scoperto che erano pericolose dopo l'episodio delle radium girls dopo la morte di Marie Curie quindi si sapeva che le radiazioni erano pericolose ma non c'era questo sacro terrore quando Fermi costruì il primo reattore nucleare la pila la Chicago Pile One non c'era uno scudo antiradiazioni perché Fermi disse questo reattore svilupperà una potenza bassa lo scudo antiradiazioni non ci serve ho fatto i calcoli a mente siccome Fermi era piuttosto bravo a fare i calcoli a mente gli credettero sulla parola e quel reattore non aveva uno scudo antiradiazioni e in generale per ancora molto tempo dopo dopo non c'era tutto questo terrore del nemico invisibile della morte ok sono un fenomeno naturale sono una roba per la quale dobbiamo mettere delle soglie c'erano all'epoca esistevano già delle regolazioni di sicurezza relative alle radiazioni prevedevano tutte delle soglie soglie che oggi magari sarebbero considerate persino alte perché c'erano soglie a 500 millisievertanno che sono una quantità alta ma pensa solo a come si faceva la radioterapia si andava avanti irraggiando finché la pelle non si arrossava questo all'inizio proprio dei trattamenti radioterapici quindi affinché non si causava eritema a supporto di quanto dici è così sempre a supporto di quanto dici Luca io non so se tu forse sei troppo giovane in Italia esistevano le batterie per le auto che si chiamavano Urania Urania questo è un nome che ti dice quanto ciò che era associato al nucleare fosse visto bene questa energia che poteva salvarci era vista come qualcosa di positivo hai perfettamente ragione quello che dici c'è abbondanza di casi simili e sì ci furono addirittura messi in commercio dei prodotti contenenti elementi radioattivi ancora dopo la faccenda degli orologi al radio che insomma poi si scoprì che insomma se l'orologio si rompeva e se lo ingerivi visto radio poteva crearti dei problemi però per esempio i vetri all'uraninite continuarono a girare ancora per parecchio tempo e effettivamente stavano ancora sui siti di collezionismo la fiesta wear così la chiamano negli Stati Uniti questi colori bellissimi sgargianti e poi dopo se vai a fare misure è veramente radioattivo io uno di quegli oggetti l'ho usato a lungo come sorgente portatile perché è perfettamente consentita che mi serviva a fare dimostrazioni i mantellini delle lampade a gas quelle per il campeggio tipicamente contenevano del torio non so se ancora ha messo questo realmente non lo so perché rendeva più bianca la luce più intensa l'emissione quindi c'era una gran varietà di prodotti contenenti materiali radioattivi la cosa non non turbava particolarmente è vero e invece due anni fa è successo un ragazzino americano che per un progetto scolastico di scienze ha portato uno di questi vetri all'uranio che aveva in casa in casa della zia a scuola e quando ha detto che era un vetro all'uranio il preside ha chiamato le forze speciali è arrivata la SWOT a scuola in modalità antiterrorismo perché sto bambino ha detto ho preso il vetro all'uranio da mia zia per portarlo in classe e far vedere che fa ridere perché quel vetro all'uranio lo puoi toccare tranquillamente certamente la vitrificazione è uno dei metodi che noi abbiamo per bloccare le scorie radiattive i rifiuti come si chiamano radiattivi perché è uno dei metodi migliori per bloccare tutto all'interno senza rilascio quindi è chiaro che quel vetro può essere toccato tranquillamente non c'è dubbio ecco vorrei però tornare un attimo a Fukushima sicuramente hai accennato al fatto che la comunicazione la gestione della comunicazione da parte dei giapponesi è stata subottimale diciamo nel senso che da un lato hanno negato che ci fosse un pericolo poi lo hanno minimizzato e via dicendo e quindi questo come dire ha prodotto insicurezza nelle persone su questo si sono poi inseriti ecco si è poi inserita una narrazione giornalistica che mi sentirei di definire estremamente fantasiosa allora tu oggi hai detto che in caso di emergenza generalmente i giornalisti sono scoprono un senso di responsabilità ti vedo perplesso su questo sì perché persino adesso durante la guerra in Ucraina io vedo abbiamo visto che nelle situazioni che hanno coinvolto la centrale di Cernobil e quella di Zaporizia i giornalisti italiani il senso di responsabilità l'hanno preso e lanciato in orbita per essere sicuri di non vederlo mai più e hanno scritto le peggio scelleratezze rischiando di creare anzi non rischiando creando ondate di panico noi come pagina abbiamo ricevuto più di una farmacia che ci ha scritto appellandosi a noi pagina Facebook per fare informazione corretta perché avevano le persone che gli assaltavano gli sportelli in cerca di pastiglie di odio quindi vorrei chiederti sei davvero convinto che i giornalisti abbiano questo senso scoprano questo senso di responsabilità da qualche parte? diciamo che lo voglio credere per quanto riguarda le cosiddette testate storiche quelle consolidate quelle che esistite diciamo da sempre esisteranno da sempre e che non dovrebbero permettersi potersi permettere di avere quindi la loro storia macchiata da una gestione errata di una situazione di questo tipo ora con questo io sembro voler fare una differenza tra un certo modo di fare informazione e un altro e potresti sentirti parte di quel modo di fare informazione che non è quello di una testata di questo tipo e quindi essere implicitamente criticato da me non è assolutamente questo che io voglio fare ci mancherebbe voglio precisarlo mi riferivo a queste a queste fonti autorevoli a queste fonti particolarmente consolidate e quindi è uno dei paradigmi sui quali si basa la risposta attuale perlomeno negli Stati Uniti io ho una diciamo collaborazione scientifica con un centro di preparazione e risposta ai disastri di emergenze che è a Yale e questo è uno dei paradigmi sui quali si fonda il loro modo di operare credo che relativamente alle testate che negli Stati Uniti sono quelle considerate appunto credibili New York Times Washington Post queste qua ci possa essere questo tipo di approccio lo voglio credere sinceramente lo voglio credere se parliamo se parliamo del New York Times e del Washington Post a cui non a caso sono abbonato ti credo anch'io perché effettivamente fanno un giornalismo di alto livello sono l'unico devo dire l'unica cosa per la quale invidio gli statunitensi il giornalismo non certo per il loro sistema sanitario quello giudiziario però ecco io a questo mi riferivo però realmente non mi riferivo a altri paesi altri giornali altri contesti la mia esperienza è un po' limitata diciamo e lo ammetto la mia esperienza è molto è molto relativa a quel mondo a quell'ambiente e a questo mi riferivo anche perché ti ripeto è proprio uno dei pilastri sui quali si basa la risposta a questo tipo di emergenze che è quello di dire gli stessi giornali gli stessi giornalisti che normalmente vanno alla ricerca della notizia sensazionale anche lo scandalo anche quello che che porta a vendere in questi casi assumono un assaggiamento di forte responsabilità e su questo si può contare in altre parole l'idea è quella di considerarli alleati da con cui collaborare non trattarli come al contrario ostili a priori perché questo finisce fra l'altro per poi anche danneggiare chi cerca di fare la comunicazione corretta io spero tanto che tu abbia ragione per quanto riguarda i giornalisti italiani sono un po' scettico circa il loro senso di responsabilità ma spero davvero tanto che tu abbia ragione da questo punto di vista speriamo di doverlo mai verificare diciamo anche questo ah ovviamente dunque abbiamo ancora un quarto d'ora questa sera la live la chiudiamo un po' prima perché come abbiamo ricordato prima è giusto la quarta che faccio di oggi per cui se ci sono domande dal pubblico l'altra volta avevamo lasciato un sacco di cose interessanti in sospeso sulla radiomedicina e sulla radioprotezione se ci sono domande dal pubblico questo è il momento di farle inizio con una io perché l'altra volta c'è una cosa che non sono sicuro di aver capito bene c'è qualche differenza tra radioterapia e terapia radiometabolica? allora la terapia la radioterapia metabolica è un tipo di radioterapia è una branca della radioterapia è quella che fa uso di composti radioattivi che attraverso il metabolismo associato alla molecola che contiene l'elemento radioattivo vanno a bersagliare determinati tessuti determinati organi determinati processi e quindi per esempio fa parte della radioterapia metabolica l'utilizzo dello iodio lo iodio 131 è questo elemento che fa paura perché quello che si è rilasciato a seguito di un incidente a un reattore nucleare poi ricade ricade sul terreno contamina i pascoli e quindi finisce nei latticini è quello dal quale in modo oculato ci si può proteggere utilizzando queste famose tavolette di iodio che vanno a saturare la tiroide impedendone la captazione di iodio radioattivo cosa che hai fatto benissimo a dire che va fatta sotto il controllo la direzione degli esperti è gravissimo farlo in maniera incontrollata può fare gravissimo danno d'altra parte è anche efficace perché se andiamo a analizzare quello che successe in Polonia dove l'informazione fu rilasciata diciamo al pubblico e le misure e le pastiglie in particolare distribuite e in Bielorussia dove non avvenne si vede la grande differenza di incidenza di tumori anche proprio attraverso il confine a cavallo del confine quindi lo iodio che appunto è presente anche in questi incidenti d'altra parte può essere utilizzato con grande vantaggio per esempio per un'ablazione della tiroide dopo la resezione chirurgica quindi in presenza di un tumore diagnosticato identificato viene rimosso chirurgicamente la massa principale e poi però siccome c'è un residuo di cellule che continuano a comportarsi come cellule da tiroide che quindi captano iodio queste possono essere rimosse questa ablazione attraverso l'uso dello iodio 131 e quindi è molto utile si fa proprio agio sul metabolismo che porta ad avere questa captazione una cosa molto interessante che ho visto di recente questi sono studi che vengono prevalentemente in Francia chi lo sappia è l'idea di usare alcuni isotopi del piombo che emettono particelle alfa il piombo ha degli isotopi stabili nei quali terminano la maggior parte delle famiglie che attiene radioattività naturale ma ne ha anche tanti instabili emettitori di particelle alfa in particolare bene questo piombo legato a molecole che bersagliano determinati tumori adesso è visto come una possibile modalità di trattamento di alcuni tumori difficilissimi da trattare dove è davvero importante usare il metabolismo la biochimica se vogliamo per bersagliare i tumori e uno dei casi peggiori in questo senso sono i tumori al cervello perché è molto difficile identificarne la distribuzione soprattutto quelli che si sviluppano purtroppo in forma tentacolare per cui le propaggini si vedono con grande difficoltà e allora magari è possibile vedere la massa principale trattarla rimuoverla ma poi eliminare quelle propaggini che lo fanno tornare è difficilissimo se potessimo contare sul metabolismo per il bersagliamento sarebbe una gran cosa per inciso è quello che si è tentato di fare con la cosiddetta BNCT la terapia per cattura neutronica sul boro questa è una modalità che sicuramente conosci Luca è una cosiddetta modalità binaria in realtà no e allora guarda siccome coinvolgi i reattori io te la cito la prossima volta sono certo che ne sai più di me perché sei un sei un sicuramente andrò a leggere allora sei capace di apprendimento ultra rapido e approfondito e allora BNCT è il termine che sta appunto per terapia per cattura neutronica sul boro il boro è questo elemento che ha alcuni isotopi stabili il boro 10 il boro 11 il boro 10 è in grado di catturare neutroni di quelli lenti di bassa energia Julio Stamani parlava dei reattori nucleari come funzionano come i neutroni lenti abbiano una capacità di scatenare la fissione dell'uranio 235 la stessa cosa avviene con il boro nel senso che la probabilità è maggiore con neutroni bassi è uno dei principali costituenti delle barre di controllo perché assorbe neutroni che è una meraviglia certamente con la probabilità che cresce come l'inverso della velocità quindi è chiaro che a basse velocità la sezione d'urto che è la probabilità appunto che avvenga questa interazione va su e allora questo boro 10 colpito con neutroni si scinde in un nucleo di elio chiamiamo particella alfa in realtà avendo una reazione nucleare anziché un decadimento forse sarebbe più corretto chiamarlo nucleo di elio 4 comunque sia una particella alfa e un nucleo di litio 7 questi due sono particelle pesanti particelle molto cariche che quindi si fermano immediatamente e allora se noi disponessimo di un vettore capace di essere captato dalle zone dove si sviluppa il tumore dove c'è un'attività mitotica più elevata allora potremmo poi contare sul fatto che si è concentrata la molecola sul tumore irraggiare anche tutta la testa con un fascio di neutroni termici che di per sé non fa molto danno perché lo dice il nome i neutroni sono termici portano pochissima energia ma sono in grado di scatenare queste reazioni è stato tentato a lungo in Giappone si è provata la cosa a lungo più recentemente ci sono stati studi cui tra l'altro ha partecipato anche Pisa o colleghi il professor Valerio Giusti che andò a lavorare su questo tema in Svezia all'astuzio dove una struttura dedicata fu messa su e la più avanzata di cui io abbia notizia e qual è però il problema che non si è riusciti ad ottenere una concentrazione differenziale tra zona del tumore e zona dei tessuti sani tali da rendere accettabile la dose che finisce per essere ricevuta dai tessuti sani perché il problema della radioterapia è sempre questo il fatto che concentrare la dose sui soli tessuti malati e risparmiare quelli sani è molto difficile e in particolare quando è così difficile identificare appunto i margini e l'estensione del tumore e allora ecco la parte metabolica della radioterapia che potrebbe essere il futuro perché si basa proprio su questo metabolismo diverso particolare dei tumori per captare queste molecole che sono radiattive e che una volta captate quindi nel loro dicadimento che ovviamente avviene sempre anche prima della captazione però concentrandosi sulla zona di captazione la potrebbero trattare adeguatamente trovo tra l'altro interessantissimo che hai parlato del piombo per curare i tumori al cervello e qua ci sono due elementi interessanti il primo è che si vanno a utilizzare le radiazioni quindi un qualcosa di potenzialmente pericoloso che sicuramente percepiamo come molto pericoloso per distruggere un tumore la seconda è che si va a usare il piombo che ovviamente è tossico ed è tossico per il cervello certamente è tossico per il cervello quindi si va ad accumulare nel cervello danneggiandolo tanto che si può avere intossicazione da piombo e si manifesta con danni cerebrali ma noi lo utilizziamo per farlo captare alla massa cerebrale tumorale e quel piombo in più è pure radioattivo e quindi veramente utilizziamo quelli che sono stati per secoli veleni che il piombo c'è chi dice addirittura che il piombo potrebbe essere responsabile della caduta dell'impero romano romano quindi robe che sono veramente state per secoli veleni oggi abbiamo imparato a utilizzarle per sconfiggere quello che è uno dei nostri peggiori nemici il tumore e non solo pensa all'origine di questo piombo dai frammenti di fissione da quelle che sono chiamate le scorie radioattive i rifiuti radioattivi prodotti dai reattori quindi sì è vero tra l'altro anche lo iodio 131 è particolarmente significativo perché si dimezza in otto giorni quindi in natura non esiste e non c'è modo di conservarlo quando ti serve devi produrlo per l'occasione in buona sostanza e di processi che producono lo iodio 131 che io sappia ne esiste uno solo che è la fissione dell'uranio 235 quindi se chiudi i reattori nucleari domani hai finito di fare le terapie radiometaboliche per la tiroide esattamente e questo vale al momento anche per il tecnezio scusa l'interruzione il tecnezio 99 metastabile al momento è ricavato dall'ecadimento del molibdeno a sua volta prodotto di fissione e qua c'è un problema che dobbiamo affrontare il fatto che i reattori che producono questi isotopi per uso medico sono vecchi e non è chiaro se saranno sostituiti e quindi c'è un grande sforzo di ricerca per lo sviluppo di tecniche di produzione di questi radioisotopi che magari facciano uso di acceleratori che il pubblico accetta molto di più che hanno senz'altro il vantaggio di essere compatti di poter essere accessi e spenti facilmente e che appunto tanti ospedali fra l'altro dispongono i ciclotoni per la produzione degli isotopi che si usano in medicina nucleare per l'imaging quindi se riuscissimo a ottenere anche la produzione di questi isotopi che normalmente vengono dai reattori sarebbe un grande passo avanti a livello di accettazione pubblica sì sì sono scettico nel senso che questi elementi che nascono dalla fissione dell'uranio 235 hanno un carico di neutroni importante hanno un carico di neutroni notevole proprio perché man mano che saliamo nella tavola periodica i neutroni crescono più dei protoni per dare stabilità ai nuclei quindi lo iodio lo iodio 131 per generarlo a partire dallo iodio stabile non ti basta una cattura neutronica te ne servono un certo numero e lo stesso vale per il tecnezio e per altri elementi quindi è difficile ottenerli con un ciclotrone o con un'altra forma di acceleratore particelle oltre al fatto che comunque anche se c'è una maggiore accettazione pubblica hai una produzione di rifiuti radioattivi perché un ciclotrone non accelera i neutroni accelera i protoni e li puoi far buttare contro un bersaglio e quel bersaglio deve essere carico di neutroni quindi sarà molto probabilmente un elemento pesante una delle ipotesi in quel caso se non sbaglio partire dal molibdeno 100 ma insomma quel che dici è verissimo non a caso ci sono reattori che vengono studiati quegli assali liquidi che potrebbero essere un modo per facilitare poi l'estrazione di questi isotopi di interesse e che al tempo stesso però avrebbero una sicurezza intrinseca maggiore potenzialmente un'accettabilità maggiore è vero i reattori sono difficili da sostituire e qua in chat un utente accennava il fatto che ultimamente sta diventando anche importante il lutezio 177 per alcune terapie radiometaboliche anche questo è vero e di nuovo sì sì c'è una gran varietà di isotopi che vengono studiati e di nuovo questo dimostra come ci sia del grande potenziale in tutti questi elementi radioattivi è la verità è la verità il punto è convincere il pubblico del fatto che il processo è noto è controllato che si bersagliano determinati tessuti che su questi c'è un'azione terapeutica e questa è la parte difficile da fare e di nuovo è la parte sulla quale ci vuole molto più sforzo da parte di tutta la nostra società per educare educare tutti e voi state facendo questo io l'apprezzo moltissimo c'è un utente che chiede quindi la Francia vende anche iodio 131 no non lo fa perché non è lo iodio 131 che produce all'interno dei reattori nucleari resta all'interno del reattore perché il combustibile in un reattore lo cambi una volta ogni 18 mesi paradossalmente ti verrebbero per poter sfruttare lo iodio 131 prodotto nei reattori di potenza ti servirebbero dei reattori come quelli di Chernobyl in grado di fare la sostituzione del combustibile mentre funzionano in questo modo potresti estrarli rimuovere lo iodio finché ancora c'è perché si dimenziano 8 giorni e poi rimettere quello che a Chernobyl faceva anche il plutonio sono reattori dedicati quelli per la medicina esatto ci sono reattori dedicati il più grande d'Europa si trova in Olanda e c'è tra l'altro un progetto molto bello il più grande reattore al mondo per la produzione di radiofarmaci è attualmente in costruzione in Ghana il Ghana è uno dei paesi che stanno puntando ad avere un programma nucleare in Africa sta facendo tutta la fase preliminare quella che si chiamerebbe creazione delle competenze sta mettendo sull'infrastruttura legislativa creando i corsi universitari e via dicendo e in questo ambito sta costruendo un reattore per la produzione di radiofarmaci con l'obiettivo di diventare il principale supplier di tutta l'Africa e quindi sta costruendo un reattore moderno per la produzione di radiofarmaci su un modello simile a quello olandese ma ovviamente con 40 anni in meno di servizio tra l'altro in Olanda Petten hanno a lungo studiato proprio la BNCT di cui ti parlavo prima quindi quando andrai come so che farai a leggerti a riguardo vedrai che sono molto attivi loro in questo settore l'utilizzo dei reattori non è assolutamente visto come cosa negativa e qua un altro utente che lavora all'HFR High Flux Reactor ci scrive che i radioisotepi prodotti da questo reattore servono 30.000 trattamenti al giorno trattamenti d'altra parte io sapevo che effettivamente ogni anno ci sono alcuni milioni di pazienti che vengono trattati con la medicina nucleare tra radioterapie radiodiagnostiche e quant'altro ah sì certamente se metti tutto insieme mi pare che globalmente i trattamenti siano qualcosa come 6 milioni all'anno 5 milioni e mezzo all'anno che è un numero molto alto che però svanisce a fronte scompare proprio a fronte di quelli che invece sono i trattamenti di tipo diagnostico lì si parla di miliardi di trattamenti di procedure all'anno allora io vorrei chiedere al pubblico se ha altre domande altrimenti andiamo in chiusura perché sono le 22.30 e come avevo detto stasera avrei tenuto la live più corta quindi vediamo se ci sono se spunta qualche domanda nei prossimi 30 secondi se no io Francesco ti saluto ti auguro la buonanotte che oggi abbiamo decisamente fatto la nostra parte vedo un mio ex allievo che mi saluta e mi chiede di fare un saluto al Majorana molto volentieri ci sono novità sul sito geologico italiano sul sito geologico no e non ci saranno ancora per un bel po' sarebbe bello che ci fossero novità sul deposito nazionale ma a quanto pare la CNAI che è stata trasmessa al ministero di Cingolani lo scorso marzo o forse aprile è lì vedi anche quello anche quello è un esempio di perfetto di mancanza di informazione quando parlavi prima parlavamo prima del fatto che non abbiamo comunicatori che hanno le competenze e la capacità di trasferirle dicendo le cose in modo corretto non usando termini troppo complessi ma non semplificando in modo eccessivo questo manca sì però lì mi sentirei di dire che non è molto colpa dell'industria nucleare o dei comunicatori ci sono precise scelte politiche la CNAI quando è stata presentata è stata presentata da SOGI nel 2015 ed è stata secretata da quattro diversi governi per ragioni elettorali e io temo che stia succedendo la stessa cosa cioè credo che vedremo la CNAI pubblicata l'anno prossimo dopo le elezioni dopo le elezioni è una mia teoria è una mia teoria penso che tu abbia ragione lo si può leggere in vario modo se non ci fosse il terrore di affrontarli questi argomenti se in altre parole la comunicazione fosse fatta correttamente e non fossero visti come la peste allora non diventerebbero un qualcosa da nascondere la realtà è quella che dici tu e quindi la realtà è che se anche esistessero i comunicatori non vengono attivati perché le ragioni sono quelle che hai detto sì allora va bene non ci sono altre domande in chat io quindi ti ringrazio tantissimo Francesco per essere stato con noi anche se so che avevi degli impegni e che ristanco ma ci ha fatto molto piacere sia a me sia ovviamente a tutti quelli che ci stanno seguendo che sono 170 in questo momento io saluto tutti e do l'appuntamento a giovedì prossimo per la nostra prossima live buonanotte ringrazio a te e buonanotte a tutti Luca ringrazio a te